tu si che sei un vero g non devo parlare quando sono al 70 70 cosa cos'è che oggi oggi ragazzi ci dobbiamo dare una sorta di solamente quando finisce no dicono in generale non ricordo ma tu hai la mega di 7 e per il canzio ottimo di notte vita no mi piace urlare perché l'altro anche quando se muoio definito quindi sentito urlare la prossima volta che sono parla sto zitto non parlo più no non faccio non faccio come alex ho finito che ho fatto 90 su che aspetta ma dov'è che fate 98 sul dello sexistence perché un liceo perché per quel pixel madonna io posso l'abbandono della il cavallo nato napoli però non trovavo nessuno il cavallo nato nato incendiato questo devo scensurare il cavallo nato il cavallo il cavallo il cavallo il cavallo 모습 il caon il cavallo il caon in maniera 5 dammi il doc back enemo top 4 dai qualcun altro muore per favore così vedevo sul podio grazie podio il podio ok sono il finale top 2 no no dio 10 g secondo non do per vedere la classifica non do per vedere la classifica non do per vedere la classifica allora c'è uno con la skin di dream zitti zitti finito devo tagliare tutto devo tagliare tutto no non dire che c'è quello che ho detto su quella persona brutta va bene va bene comunque non me ne frega niente in realtà è una cosa giusta perché è una cosa giusta quello che ho detto vabbè è una cosa giusta e se dici il contrario c'è un petto di me vabbè ce l'ho fatta allora le percentuali che ho fatto 2 5 10 13 18 20 26 31 32 34 44 49 51 58 80 81 84 86 98 86 87 88 88 89 90 89 90 80 91 82 89 91 91 99 90 90 91 91 Averso, averso, aperto.